Salve, oggi è l'11 aprile del 2019, ma 11 anni fa, 2008, quando ero ancora giovane, uscì questo gran figo. Proprio 11 anni fa, mentre ero in giro con mia mamma, le dissi di fermarci a un negozio di disfio per prendere appunto questo capolavoro. Capolavoro. Quindi entro, chiedo il commesso e mi dice che questa era l'ultima copia rimasta. Grazie a Michele, per me il 2008 divenne improvvisamente un anno memorabile, anche per questo. Va che bello, c'è pure la firma di Michele stesso che ha molto apprezzato la copia originale. E mi stavo dicendo, come posso commemorare questi 11 anni? Non posso fare le canzoni più conosciute dell'album, come Avviore di me, Viene a Badare in Puglia, La più recente Eroe che l'ho già fatta. Sai cosa? Visto che ricorre l'11 aprile di 11 anni fa, qual è la traccia numero 11? Andiamo in cucina! Non sei un uomo se non mi fatti chiedi perdono, non sei un uomo se sono avanzate e non sei buono. Non sei un uomo se tu years di te se ne fotte, non sei un uomo se, se non la goffi ti batte. Non sei un uomo se non midi le macchine grosse, non sei un uomo se non midi due ganci alle giostre, non sei un uomo se hai buona di tornare in carcere, non sei un uomo se hai pantal einem se ti mette a piangere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.